La Vissimisano si dimostra squadra giovane e forte che gioca addirittura con talenti classe 2000-2001. Viva la gioventù, verrebbe da dire. Ortalline, proprio Orto, scova giocatori che sanno giocare a calcio e soprattutto si divertono adottando quella spensieratezza necessaria per vivere il calcio come è giusto che sia. Alla faccia di chi aveva pensato che questa squadra avesse già chiuso il sogno play-off. Al microfono di Renzo Baldisseri a fine gara, Marco Sempini, capitano, marca quanto segue. Sì, era una partita importante, dovevamo affrettare col giusto piglio. Sapevamo che era l'ultima occasione per poter rimanere attaccati a qualche speranza per il play-off, dovevamo solo vincere. Abbiamo messo dentro qualche ragazzo che ha fatto molto bene, questo ci riempie di soddisfazione e un aspico per loro per la vittoria, così acquistano fiducia e è quello che gli serve in questo momento. Nuovaffetti atteso e nervoso, regala un tempo all'avversario e paga come non mai questa gentile concessione anche se gli uomini di guerra sono bravi ad entrare in partita e a rischiare l'impresa. Pronti e via e la tensione si avverte tra Ronci e Stefanelli, i due si ostacolano e rischiano l'incredibile Capitombolo. Zamagna ha un grande piede, si vede quando all'ottavo pennella per la testa di Meluzzi, troppo libero di colpire e di battere, li colpevole Ronci. L'offensiva ospite prosegue con un tiro dalla distanza di Zamagna che Ronci respinge a suo modo. In contropiede gli ospiti raddoppiano, pallone recuperato a centrocampo da Baldini, progressione centrale, a servire Benedetti che sulla fascia da posizione defilata lascia partire un diagonale chirurgico che sbatte più sul palo e poi si infile in rete. Tiro che non lascia scampo al portiere di casa, 2-0 e doccia fredda per le unità presenti al comunale. Zamagna vorrebbe incidere anche da calcio piazzato ma pretende un po' troppo. Un minuto 35 si vede finalmente in Nuova Feltia, punizione di Rinaldi, colpo di testi Stefanelli, murato in corner. È la volta di Eugenio Sebastiani, speranza giallobru, ma il suo tiro emette solo false speranze. Ancora da corner i giallobru cercano la via del gol, quindi un soffio Cupi non trova la deviazione vincente. Baldinini innesca Stefanelli che mette sprint e muscoli, grande conclusione con Montagna che respinge. Sebastiani segue l'azione, raccoglie il pallone e lo serve al centro per Baldinini che c'entra un'incredibile traversa. Quanto si è cambiato l'atteggiamento tattico del Nuova Feltia si concepisce anche da ciò. Spettacolo allo stato puro, applausi dei presenti, si alza il grido degli ultrassi, Gabrielli allora prova dalla mattonella vincente di passato. Calcio piazzato da Rewind, ma rimanendo sulle notte di Vasco Rossi, il Nuova Feltia intona liberi liberi. Ecco che Sebastiani serve Stefanelli, conclusione ribattuta, Cupi raccoglie sulla destra, tiro cross che Montagna smanaccia sui piedi Baldinini e giochi riaperti. Secondo centro di stagione per l'ex primavera dell'Inter. Entra nel frattempo anche Mazzarini, Nuova Feltia a trazione offensiva, Rinaldi batte un calcio piazzato, pallone raccolto proprio da Mazzarini che sfiora la marcatura con un tiro che lambisce il palo. Il gol è nell'area, angolo dalla destra, batti e ribatti in area di rigore per la zampata definitiva e vincente firmata ancora una volta da Francesco Baldinini salito nel frattempo a 4-3 in stagione. Partita pazzesca, parte opposta, Baldini centri il pallo sulla ribattuta, Benedetti raccoglie il pallone, firma il suo passo e la personale doppietta. 2-3, palla al centro campo, fisco del direttore di gara e Stefanelli abbatte anche Gori sulla propria strada entrando in porta con il pallone, 14esimo centro di stagione per il nazionale San Marinese. Al fotofinish, il pomeriggio di emozione, si conclude con una punizione di Benedetti che si stampa all'incroce con il pallone della vittoria ribadito in rete di testa dal neoentrato Acquarelli. 4-3 e ultimi 180 minuti del torneo che si preannunciano da Cardiopalma e da Fuoco, tutti ovviamente da godere.